A chi dobbiamo credere? Al primario Franco Locatelli che dice non siamo in una situazione di panico o allarme, non è crescita esponenziale? O al fisico Paolo Giordano che nello stesso giorno afferma agire subito contagio esponenziale? Il più grande limite della razza umana è la nostra incapacità di comprendere la funzione esponenziale. Questa frase non è mia, è di Albert Allen Bartlett che ha dedicato la vita a cercare di spiegare alla razza umana che cosa sia una crescita esponenziale e quanto sia pericolosa all'interno di un ambiente con risorse limitate, uno spazio limitato. A lui devo quasi tutti i ragionamenti che presento in questo filmato. La nostra esperienza ci porta a comprendere benissimo una crescita lineare, come quella dell'acqua che riempie un recipiente cilindrico. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Ad intervalli di tempo regolari la crescita è sempre della stessa quantità. Fin dall'inizio, da quando l'acqua comincia a scendere nel recipiente, siamo in grado di prevedere quando il recipiente si riempirà e quando eventualmente traboccherà. La crescita esponenziale è un'altra cosa, anche se noi oggi usiamo il termine esponenziale come sinonimo di rapido, come sinonimo di vertiginoso, ma non è così. Parlare di crescita esponenziale significa parlare di un ben preciso modello matematico. Una crescita si definisce esponenziale se caratterizzata da un tempo di raddoppio costante, cioè se a intervalli di tempo regolari la popolazione raddoppia. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Come si vede inizialmente la crescita è piuttosto lenta ma poi si impenna e diventa sempre più grande. Questa è una crescita esponenziale. I problemi nascono quando una crescita esponenziale avviene in un ambiente con risorse limitate. Consideriamo ad esempio un microorganismo che venga posto in una bottiglia alle ore 11.00. Questo microorganismo si riproduce per suddivisione nel tempo di un minuto, per cui alle 11.01 avremo all'interno della bottiglia due microorganismi che poi diventeranno 4 alle 11.02, 8 alle 11.03, 16 alle 11.04, 32 alle 11.05 e la crescita esponenziale, il tempo di raddoppio è un minuto in questo caso. Ovviamente alle 11.05 la popolazione occupa ancora uno spazio piccolissimo della bottiglia, però a un certo punto la riempirà e immaginiamo che questo succeda alle 12.00. Ora la domanda è a che ora la bottiglia sarà mezza piena? Proviamo a ragionare. Se la popolazione raddoppia nel tempo di un minuto e alle 12 la bottiglia è piena, alle 11.59 la bottiglia era piena per metà, cioè al 50%. Questa è la risposta alla domanda. E alle 11.58 era piena solo per un quarto al 25%. Alle 11.57 era piena solo per un ottavo al 12,5% del suo volume. Come si vede dal grafico, per i primi 54 minuti l'occupazione della popolazione è stata irrisoria e quella popolazione poteva ritenere di avere a disposizione uno spazio illimitato. Ma la crescita è esponenziale e quindi che cosa succede? Che dalle 11.54 questi raddoppi hanno portato rapidissimamente in sei minuti a riempire la bottiglia. Questo è il problema delle crescite esponenziali e non lineari. L'imminenza della fine sarà percepita soltanto pochi secondi prima delle 12, quando ormai sarà troppo tardi per intervenire. Ma supponiamo che questa popolazione si assaggia e il suo governo, sapendo che esser di fronte a una crescita esponenziale, abbia mandato esploratori a cercare nuove bottiglie, i quali eccezionalmente ne hanno trovate altre tre. Per quanto tempo basteranno queste tre bottiglie? Pochissimo. Se alle 12 la prima bottiglia è piena, alle 12.01 sarà piena anche la seconda, alle 12.02 saranno tutte piene. Ora, cosa centro tutto questo con il coronavirus? Che cosa ci insegna questo? Ci insegna che se abbiamo delle risorse limitate, ad esempio la disponibilità di posti in terapia intensiva, e siamo di fronte a una crescita esponenziale, allora potremmo accorgerci troppo tardi che la situazione ci è sfuggita di mano. Le terapie intensive in questo momento hanno un tempo di raddoppio di circa dieci giorni. Il 6 ottobre in Italia c'erano 300 posti letto di terapia intensiva occupati. Oggi, a distanza di dieci giorni, siamo oltre i 600. Il tempo di raddoppio delle terapie intensive è dieci giorni. Che cosa vuol dire? Che quando tutti i 6.500 posti saranno occupati, saranno passati solo dieci giorni da quando i posti erano occupati per metà, cioè al 50%, e dieci giorni prima erano occupati solo a un quarto, 1.600 posti circa, e dieci giorni prima erano occupati soltanto 800 posti, cioè il 12,5%. Oggi, mentre registro, sono occupati 800 posti. Quindi fra dieci giorni saranno 1.600, fra venti giorni saranno 3.200, fra trenta giorni saranno 6.400. E saremo al collasso, perché anche se riuscissimo a raddoppiare, triplicare, quadruplicare i posti di terapia intensiva, come le bottiglie vuote dell'esempio, le riempiremmo subito, in 10-20 giorni. Non c'è una morale al termine di questo video, ma solo un consiglio. Fidatevi delle fonti di informazione che sanno leggere i dati.